Esperienza di collaborazione internazionale per promuovere i diritti delle donne e dei lavoratori in Marocco. Nel servizio di Maria Chiara Perri i progetti di Iskos Marche, l'istituto di cooperazione della CISL. Da Rabat a Casablanca, da Marrakesh ad Agadir, le donne del Marocco contemporaneo vogliono essere protagoniste della vita sociale, politica ed economica di un paese segnato da forti cambiamenti. Il processo di modernizzazione è in corso, ma ancora permangono realtà di diseguaglianze e sfruttamento. Iskos Marche, l'istituto di cooperazione della CISL, dal 2012 opera in Marocco, anche grazie a fondi europei, per dare supporto alle realtà sindacali e alle associazioni femminili. Isabella Panfili, responsabile dei progetti, parla di un'esperienza di solidarietà internazionale tra lavoratori, che punta a rendere gli attori locali primi motori di sviluppo e progresso. Le donne studiano, le donne si impegnano, sono attive in politica. Ovviamente è un percorso che le vede ancora meno inserite degli uomini, che vede ancora dei gap che sono importanti tra il lavoro degli uomini e il lavoro delle donne, in termini di salario, in termini anche di accesso a quelli che sono i posti di potere, i posti di presa di decisione. Diciamo, c'è un movimento generale, sia a livello marocchino che a livello internazionale, che tende ad accompagnare questo tipo di sviluppo e che speriamo continui così. Isco Smart prosegue il suo impegno, che ha toccato le principali città del Marocco fino ai villaggi del sud, dove è ancora forte l'analfabetismo femminile, per promuovere i diritti di tutti i lavoratori in un mercato ancora prevalentemente irregolare e per combattere lo sfruttamento delle donne, soprattutto nei settori dell'agricoltura e del lavoro domestico. Grazie. Grazie. Grazie.